Ragazzi, piccolo pre-video per dirvi che vi consiglio di guardare davvero tutto il video perché dirò delle cose davvero molto importanti che riguardano anche voi e questo canale Quindi, vi lascio al video, buona visione Non ce la farò mai Quanto è bello vedere le asticine di Audacity che fanno su e giuuu Porca puttana, devo fare video col cappuccio La gente mi guarda male, no Beh ragazzi, qui è Mark e bentornati in questo mio nuovo video Ci troviamo oggi in un video strano, in un video tag, il primo sul mio canale E sarà il video tag del AIMAI che mi avete lasciato nei commenti un po' di domande Arriviamo a 70 mi piace per questo video che sarà una bomba Quindi, ragazzi, iniziamo subito con le domande dell'AIMAI La prima domanda ce la fa Niki05 e la domanda è Ha mai insultato un professore ad alta voce? Per favore saluta, io mi chiamo Nicole Ciao Nicole, allora Sì, purtroppo ho rischiato anche di essere sospeso per questa storia Ho insultato una professoressa da nole della buffona Perché in pratica mi ha interrogato e l'interrogazione doveva durare 3 secondi e vi risponderà una domanda E... diciamo che... ho detto... A BUFFONA! XX Zodin XX ci chiede Hashtag, hai mai fatto una figura di merda? Sì, sì, raccontaci una bellissima esperienza Continua così, sono grande Grande per te, Zodin Che sei il fratello di Zoda o di Sodin, non lo so Ma sì, ragazzi, ho fatto una figura di merda anomale in montagna Stavamo tipo giocando a nascondire una roba del genere Solo che chi trovavamo dovevamo saltare addosso praticamente E c'era sto ragazzo che era vestito uguale a un passante E io per sbaglio, per saltare addosso a sto mio amico qua Sono saltato addosso a un vecchietto Tipo l'ho ribaltato, l'ho ammazzato E quindi è stata una scena epica Perché credo che sia stata la mia più grande figura di merda La quinta domanda ce la fa quell'imbecile di Wildshock Che ci chiede Hashtag, hai mai fatto una valuta bestiae tipo la mia Dove mi sono spaccato la spalla? Allora ragazzi Sto ragazzo qua è un completo idiota In pratica c'erano delle colline a tiro Io non ero presente al raduno di Padova Ma c'erano queste collinette Lui è iniziato a rotolare, rotolare Non si continuava a rotolare E alla fine della caduta della collinetta Si è tipo capovolto male Si è girato male E si è spaccato la spalla E ti sta bene, stronzo Clapsap ci chiede Hai mai voluto picchiare Marci XD Per una cosa che ha fatto Allora ragazzi Voi dovete capire l'amicizia che c'è tra me e Marci Allora io e Marci ci conosciamo da ben 14 anni E ragazzi io Marci lo voglio picchiare ogni giorno Perché io lo voglio ammazzare No non è vero Io li voglio un bene l'anno a Marci Perché è la persona migliore del mondo Ma ci sono giorni che mi esce fuori con dei discorsi sull'Inter Perché io sono diventino l'intervista Iniziamo a litigare come dei malati Ma poi ci vogliamo molto di bene E poi ci picchiamo Con l'ottava o no domanda Yuri Frongione ci chiede Hashtag E mi hai incontrato Altinelle oltre ad Alice e a Marci Certo che si Ho incontrato sia Vabbè ma Alice e Mar... Alice e Marcina stavo per dire Alice e Marci Si l'ho incontrato Marci è il mio vicino di casa E Alice invece ci sono andato a Cagliari due volte L'ho incontrata a Romics E era una persona fantastica Invece Dani e Martina Si l'ho incontrati Martina per la prima volta ad un raduno Che si è tenuto a febbraio qua a Milano E ci ho passato insieme tre giorni a Romics Ed è una persona perfida Malvagia Una stronza di merda Mi devo ancora 20 euro E invece Dani Conosco davvero tantissimo Io personalmente Perché lo seguivo da Youtube Ancora prima di conoscerlo A livello personale Poi ci siamo incontrati due volte Sempre al raduno L'ho incontrato anche Martina Che al videogameshow Federico Gilardi mi chiede Hai mai bevuto acqua o aceto o acqua e sale? Se la risposta è no Allora fallo come in Ragazzi io odio l'aceto Quindi se proprio proprio devo Bevo acqua e sale Però non lo faccio in questo video Vi giuro che se arriviamo a 100 mi piace Nel prossimo video farò la intro dove berrò acqua e sale Quindi ragazzi Le abbiamo a 100 mi piace E lo farò Allora ragazzi Le ultime due domande Le ho lasciate proprio per ultime Perché sono due domande davvero molto importanti E le ho volute nire E sono la prima Di Lorcas Hai mai pensato di aprire il canale prima? Come è stata la tua scelta di iniziare? Cosa ti ha convinto iniziare? Bella Bella per te Lorcas E la seconda È di Raffaele Fogu E ci chiede Hai mai avuto relazioni con delle ragazze? Sei un grande Continua così Sei un grande anche tu Raffaele E ragazzi Allora Io ho voluto tenere queste due domande Perché sono Sono fulco principale Dell'esistenza del mio canale Io ho aperto questo canale Perché sinceramente Mi ero appena lasciato con la mia ragazza del tempo Dopo una relazione di due anni e mezzo Ed era un periodo davvero bruttissimo E io Conoscendo Marci Conoscendo la sua passione Ho sempre voluto iniziare da molto prima Io infatti il canale l'ho aperto Tipo nel 2013 forse Probabilmente 2014 E io continuavo a dirmi ogni giorno Dai oggi inizio Oggi inizio Però Non è che non avevo voglia di iniziare Che avevo paura di Di non essere capace Di non poter continuare Invece Dopo quel periodo ho detto Voglio provare a cambiare la mia vita Non sapendo come Ho detto Mi butto Mi butto E ho aperto questo canale So che dovevo aprirlo molto probabilmente prima Lo so benissimo Perché Ora come ora che ci sono dentro il mondo di Youtube Che sono dentro il mondo dei video So che è un'esperienza fantastica E non vi immaginate nemmeno Quanto sia bello per me Avere un canale di 2000 iscritti Col vostro attaccamento Perché È la cosa più bella del mondo Avere persone che ti seguono Per quello che sei Per quello che riesci a trasmettere Per i sorrisi Per tutto Quindi ragazzi Grazie per ogni singolo momento Per ogni singolo sorriso Per ogni singolo commento Mi piace Tutto Che mi rendono felice E mi trasmettono tanto Mi fanno capire Che io devo continuare Per la mia strada Infatti Io comunque Ho iniziato nel periodo di agosto Dell'anno scorso Prima o meno Questi giorni qua Ho iniziato E ho detto Io continuo per la mia strada Poi Ho iniziato seriamente A fare video Nel periodo di marzo Aprile Nel periodo delle fiere del romix Perché Lì In quel momento lì Specifico Stando nello send di Vmove Con tutta mia ragoda E tutto Ho detto Cazzo È uno spettacolo Questo mondo Quindi ragazzi Grazie Per ogni singolo momento Per ogni singola emozione Tre quarti La devo A voi E un quarto La devo A una persona fantastica Che per me Che è Marci Che mi ha fatto capire Quanto sia bello questo mondo E quanto siano belle le amicizie Oltre la mia e la sua Perché ormai io e lui Siamo legati da 14 anni D'amicizia Ma anche con tutte le altre persone Che si conoscono Attraverso uno schermo Quindi Grazie Grazie davvero per tutti Quindi ragazzi Per questo video è tutto Mi raccomando Arriviamo a 100 mi piace E la prossima intro di un video Sarà Io Che bevo Un bicchiere di acqua e sale Quindi Arriviamo a 100 mi piace E noi ci vediamo In un prossimo video Scrivetemi nei commenti Che ne pensate di questi video tag Io non riesco a star fermo Quindi Ci vediamo in un prossimo video Non lo agio sono bella Non lo agio sono bella